Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio, roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le coste grigie, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto, o per meglio dire, una serie di prodotti che potranno suscitare l'interesse di tutti gli aspiranti re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia lo starter dal 15 al 20 del TCG di One Piece. Le scatole si presenteranno simili nello stile, riportando il nome del prodotto, il titolo del GCC, il numero dello starter e i loghi delle case produttrici, variando nel colore che riprenderà la tonalità di appartenenza di ogni singolo leader e, ovviamente, nelle diciture di riferimento nella parte frontale, ed unicamente queste ultime sulla parte superiore. Ogni scatola quindi vedrà campeggiare in primo piano il proprio personaggio principale, che vedrà per il rosso barbabianca, per il verde Utafilm, per il blu Doflamingo, per il viola Luffy, per il nero Smoker e per il giallo Katakuri. Per entrambi i lati, sia destro che sinistro, saranno riproposti i tipici layout che vedranno sia il titolo del gioco che il numero di appartenenza del deck con la classica finestrella che farà far capolino al campione del mazzo ed il contenuto dello starter, con tutte le informazioni legali del caso descritte sul dorso dell'articolo. Aprendo ogni scatola, al suo interno troverete il rispettivo mazzo di appartenenza, un vademecum delle regole che riporterà sul dorso anche un poster playmat pronto per essere utilizzato, fornendo un primo scudo protettivo per le carte che utilizzerete in partita, 10 don classici ed in anteprima una bustina di PRB01 in inglese. Il set che sarà disponibile i primi di novembre qui in occidente, con diverse ristampe e nuove foilature che torneranno utili sia ai navigatori più esperti che a chi sta levando l'ancora per la prima volta. Ma analizziamo nel dettaglio il contenuto di ogni starter. Barba Bianca vedrà con il suo rispettivo leader una terza versione disponibile al servizio di ogni giocatore e conterrà carte che orbiteranno attorno al suo tratto, ovvero White Bird Pirates, e ha la sua capacità di resistere anche agli attacchi più efferati. Inoltre, con l'arrivo di carte come la sua controparte costo 7 e di pugno di fuoco costo 5, anche lo stesso Ace potrà giovare di un supporto in più da inserire tra le sue fila. Ottimo come sempre il sostegno dato da PRB01 per chi sta iniziando, che all'occorrenza fornirà sia Otama che Radical Beam così da dare un rinforzo notevole all'intera struttura principale avendo poi la possibilità di devastare a suon di pugni le difese rivali. Per tutti i giocatori di Uta il suo starter risulterà, a mio parere, quello che riceverà più supporti in assoluto. Con tutte le promo a disposizione, tra le quali compare anche il playset completo di Bartolomeu, carta fondamentale per le dinamiche del deck, arriveranno anche la versione costo 4 della stessa cantante, richiamabile da Luffy costo 7 blocker, e Shanks, il primo colosso degno di nota del deck, serciabile addirittura dall'effetto del leader stesso ed utile nel turno corrente, dato il suo costo pari a 9. In più altri event favoriranno ogni settore sia offensivo che difensivo, basti menzionare ad esempio World Wind Blows, che non vedrò l'ora di utilizzare in partita. Passiamo a Duffy, che per tutti gli amanti del blu monocromatico servirà un deck pronto a dare battaglia senza esclusione di colpi. La sua struttura principale vedrà, come sempre, l'impiego sul terreno dei Seven Warlords of the Sea, e grazie a carte come Trafalgar, Boa Buggy e Barba Nera, che all'occorrenza potrà trovare spazio in lista se possibile, avrete tutto il necessario per far tornare in auge uno degli archetipi più temuti e pericolosi in circolazione dagli albori di questo TCG. Se poi dalla bustina di PRB01 riuscirete a trovare anche una Boa Blocker costo 4 proveniente da OP01, la fase difensiva andrà a rafforzarsi, permettendo al burattinaio di manipolare ogni scenario come meglio crederà. Interessante sarà la presenza del 4x di Gimbe Promo, impiegabile se voluto per mettere i bastoni in mezzo alle ruote alle fasi offensive e rivali. La versione viola di Cappello di Paglia andrà a rafforzare uno dei leader che ancora oggi riesce a fare risultato. Con la presenza di carte come Zoro costo 4, Sercino e lo stesso Luffy costo 7, qui si potrà andare a supportare non solo il deck in questione, ma anche un eventuale doffi verde-viola con reparto film, che grazie al capitano più famoso dell'opera del maestro Oda potrà fornire più risposte a chi vorrà vestire i panni del fenicottero. Se vorrete comunque manovrare le dinamiche di Cappello, le carte consigliate da inserire nel deck saranno Kaido costo 9 e il sempre verde Queen Blocker del quarto starter, che grazie all'effetto combinato di Luffy non tarderanno a scendere in campo, agevolandovi nel portarvi a casa l'incontro. Penultimo in ordine numerico, Smoker porterà aria fresca tra le fila del nero. Ina e Tassigi di certo potranno aiutare il Fumoso nella sua opera di far trionfare la giustizia, grazie anche al supporto di ristampe importanti come le 4 Ice Age e gli altrettanti Brand New, carte staple per questo colore, che agevoleranno i diversi distruttori di costi ridotti, come per la stessa Ina e i Kobe costo 3. Le carte presenti nel deck inoltre potranno completare altre profile, dato che l'attuale Luffy Starter 14 le utilizzerà per prevalere sul proprio avversario. Se ne avrete la possibilità comunque, riuscire a reperire un Borsalino o un Cousin costo 4 o 10 dal PRB01 di sicuro non potrà che fare bene alle strategie offensive di questo leader. Ultimo, ma non per importanza, vede l'arrivo di Katakuri giallo. Il vice di Big Mom porterà con sé due novità importanti, ovvero la sua controparte costo 5 e il suo stesso capitano costo 6. Quest'ultima personalmente la trovo davvero molto forte, perché sia in un caso che nell'altro andrà a denneggiare l'avversario al solo costo di una carta scartata dalla mano. Per il resto ci saranno elementi che potranno tornare utili a chi vorrà fare del giallo il proprio punto di partenza, anche se, nello specifico, personalmente sconsiglio l'acquisto di questo prodotto per i novizi. Esistono starter molto più performanti che richiederanno qualche piccola integrazione qui e là, ma niente di così eccessivo, vedasi la stessa Uta. Per migliorare comunque questo mazzo, a differenza dei precedenti, qui si potrà optare per una Bonnie e una S Snake ad esempio provenienti da OP08, così da testare anche il reparto Hegged tra le dinamiche del possessore del frutto Mochi Mochi, che ha reso questo colore, ovvero il giallo, un vero incubo per molti aspiranti re dei pirati. Per avere comunque un supporto in più, se sarete marinai in procinto di spiegare le vele verso la volta del Grande Blu, sarà disponibile presso le fumetterie o centri ludici di fiducia aderenti all'iniziativa la guida del giocatore, con consigli utili che vi serviranno a rendere il deck che avrete scelto più performante. Richiedetelo al negoziante per assicurarvi la vostra copia personale. Come detto quindi, questi prodotti non saranno degli starter in tutto e per tutto, ma avranno delle ristampe che per un totale di 50 carte, leader escluso ovviamente, ammonteranno a ben 36 unità. Infatti a partire dal quindicesimo fino al ventesimo, saranno solamente 14 le carte inedite, che calcheranno per la prima volta i tavoli da gioco, fornendo a modo loro un apporto fondamentale per il colore di riferimento. Sarà interessante vedere come ogni risorsa disponibile verrà utilizzata per rendere il leader che ne usufruirà il prossimo re dei pirati. Vedo già Barba ed Ace utilizzati in alcune liste di OP09 e il fronte blu crescere sempre di più anche in vista dell'arrivo di Buggy leader. Sono certo che ne vedremo delle belle, dicembre dopo tutto è alle porte ed il nonno capitolo di questo TCG non vede l'ora di stravolgere ancora una volta l'intero meta. Quindi, fatta una dinamica generale di ogni starter, entriamo più nello specifico, vedendo da vicino quali saranno le carte promo presenti all'interno di ognuno di essi. Partiamo dal deck che ne possiederà di più, ovvero Uta, che ne avrà addirittura 24 tutte in playset. Doflamingo vedrà le 4 copie di Jimbe, Luffy le altrettante unità della sua versione Gear 5 costo 10, mentre purtroppo sia per Barba Bianca che per Katakuri e Smoker non sarà presente alcuna promo disponibile. Ottenibili in mercato ad un prezzo indicativo di 18€, questi starter regaleranno dei pezzi unici che in passato erano reperibili a prezzi folli. Vedasi gli stessi Jimbe Blu o Bartolo Miu Verdi, che hanno viaggiato a cifre notevoli da quando pubblicati. Ovviamente il loro valore era dato dal fatto che potevano essere ottenuti solamente in fase di torneo organizzato dalla casa madre a livelli importanti. Mentre ora, soldi sul tavolo, acquisto il deck, playset pronto. E per quanto riguarda le copie da comprare, Arconte, quante ne consigli? A differenza delle edizioni passate, qui, se ne avrete la possibilità, il consiglio sarà quello di recuperare le carte singole che vi serviranno o unicamente una doppia copia dello starter che vorrete giocare, recuperando tutto il resto con calma man mano che i prezzi andranno a calmierarsi. Quindi non vedo l'ora di utilizzare i supporti che sono stati forniti ad Uta e altre nuove armi presenti, sia nel viola che nel giallo, che potranno tornare utili alla mia amata Nico Robin una volta che farà il suo debutto come leader in OP09. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di Loop Games per avermi dato la possibilità di parlare dei prodotti mostrati in questo contenuto. Vi lascerò il link del loro negozio, come sempre, in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sono tornato dal mio girovagare. A presto!